Innanzitutto è l'inizio, anzi la prosecuzione di una discussione che non riguarda solamente Bagnoli, perché oggi si parlava di tante tematiche dell'area occidentale. Io credo che il percorso corretto è quello di presentare una proposta, in particolare su Bagnoli, che noi ieri anche abbiamo discusso fino a notte fonda in giunta, delineando una proposta che vorremmo sottoporre al confronto innanzitutto con la nostra maggioranza, poi con il Consiglio Comunale, con i cittadini, con gli organi rappresentativi della cittadinanza dell'area bagnolese e quindi essere pronti entro Pasqua a presentare una proposta articolata che mi auguro sia la sintesi del contributo di tutti. Aspiro a poter dare al Governo una proposta che non sia solo quella del Sindaco, della sua giunta e della sua maggioranza, ma anzi che sia molto ampia con il contributo di tutto il Consiglio e soprattutto della cittadinanza. Quindi mi impegno a essere garante di questo processo di partecipazione democratica su Bagnoli, su questa proposta e da presentare al Governo, così come mi sono impegnato, entro Pasqua. Noi siamo determinatissimi su tutti questi punti affrontati oggi e anche su altri, ma in particolare ex Arianato, dove addirittura siamo dovuti arrivare al punto di diffidare formalmente il commissario della Fondazione Regione e quindi noi siamo pronti da tempo per una svolta. Abbiamo parlato di proposte, una proposta che abbiamo fatto da tempo, si è pronti da Salaise Collega Ambiente alla città dei giovani, a un luogo di sport, formazione, teatro, cultura, autoproduzione dal basso. Insomma è uno scandalo che quel posto sia ancora chiuso e che produce danni alla stessa fondazione Banco Napoli per l'infanzia, dove noi possiamo portare infanti, possiamo portare giovanissime e giovani. Credo che stiamo per una svolta, perché la nostra pressione è molto forte, non può che prevalere il buonsenso, ma anche ragioni di redditività sociale e non solo sociale di quell'area. Lo stesso per Edellandia, basta ostacoli continui, bisogna andare avanti, il progetto è serio, ci sono imprenditori, c'è il Comune, c'è il Mostra d'Oltremare, ci sono i lavoratori, obiettivo 19 giugno 2015, in occasione dei 50 anni di Edellandia, la riapertura anche di Edellandia e contiamo, visto che parliamo di area occidentale, di chiudere per la primavera anche la partita terme di Agnano, consolidare il podromo, insomma quello che abbiamo fatto su Zoho, su Mostra d'Oltremare, credo che l'impegno di questa amministrazione sull'area occidentale con le risorse date è molto positivo, francamente.